la voce con il murini scape ma perché provo? ma voi cosa state facendo a casa? iscrivetevi mi raccomando va 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 niente che è sporca la strada eh! molto sporca! non me lo! è giusta! patinata! vabbè devi stare attenti! penso che tornate ci sono le... anche qua in frenata, in staccata, questa tenita perché questa tenita? senta bene il primo eh! grazie a questa cosa vai 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 se ne stanno qualche frenetta Uhhhh eh che bello in derど è in curva non mi è saluta la seconda con una curva Mettita tutta inderappata, una figata unica Boh, che bello Che bello Vai Dov'è? Boh Sto scaldando la gomma, è un po' freddina ancora Via questo